Quattro passi di salute nel parco, l'appuntamento di oggi è Donna e Movimento. Siamo con il dottor Paolo Guiso, cofondatore del progetto e anche garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte. A lui chiediamo qualche informazione su questo nuovo appuntamento, tra l'altro ricordando che ne sta arrivando anche un altro. Siete sempre in movimento anche voi. Sì, il movimento è una delle nostre caratteristiche, a volte con successo, altre volte meno. Però l'importante è essere presenti, continuare a organizzare. Colgo l'occasione perché questo incontro è il penultimo di quest'anno e con questo incontro entriamo nel mondo squisitamente legato a quattro passi di salute nel parco. Quattro passi è movimento. Il fatto che questo movimento sia legato al sesso femminile non vuol dire molto. Vuol dire semplicemente che nel focus, nella puntualizzazione che noi facciamo nei vari interventi ci sono situazioni diverse. Abbiamo parlato di malattie reumatiche, metaboliche, diabete, abbiamo parlato di animali, di rapporto con gli animali, di movimento con gli animali. E quindi ogni incontro ha, diciamo così, un taglio leggermente diverso. Però l'argomento di base è sempre quello di incontrarsi, muoversi e stare bene. Uomini, animali, natura, nell'ottica di una sola salute. E oggigiorno, poiché la natura ci sta presentando un po' di conti che noi abbiamo, un po' di cambiali che abbiamo firmato qualche decennio fa, altre anche qualche centinaio di anni fa, adesso ci stanno arrivando le cambiali da pagare. E quindi un buon rapporto con la natura, con gli animali e con i nostri vicini di casa, i nostri amici, i nostri compagni di camminata è importantissimo. Le donne, in questo caso noi abbiamo due ospiti importanti e donne, anche loro, per questo tema. Sì, c'è sempre un taglio medico negli incontri che facciamo quando rientrano in patologie specifiche. Ovviamente il movimento in questa mattinata è legato a situazioni di immunologia, situazioni di aromatologia, ma semplicemente per ricordare che il movimento fa sempre bene, fa sempre bene alle patologie, ma anche alle situazioni normali, il piccolo sovrappeso e anche la scarsa voglia di uscire di casa. C'è tutto concorre nel miglioramento della qualità della vita. Il movimento è veramente la chiave per incominciare a entrare nei problemi, non a risolverli, ma a entrare nei problemi. Un accenno al prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento per noi è importantissimo, soprattutto perché noi facciamo sempre riferimento alle necessità di territorio. Questa situazione che andremo ad illustrare il 3 di dicembre è legata ai problemi dei giovani, bambini e adolescenti, come conseguenza e non solo del confinamento da Covid. Il Covid ha portato a una serie di patologie di carattere comportamentale con sfaccettature diverse che andremo a illustrare quel giorno e che ci saranno raccontate da pediatri, neuropsichiatri infantili, anche immunologi che si occupano di bambini e adolescenti e sarà un'occasione importantissima per la presentazione del progetto che verrà fatto proprio qui alle Vallere. Speriamo, con l'accordo che Amar ha nei confronti delle Vallere, il parco delle Vallere, in cui i bambini, oggetto di considerazione da parte degli ospedali, che hanno subito ricoveri o che sono indirizzati dai pediatri di libera scelta, potranno venire a conoscere, incontrare, accudire e giocare con gli animali in un rapporto semplice, sereno possibilmente, al di fuori del contatto con i genitori che verranno invece invitati, durante il periodo in cui i loro fanciulli giocano o incontrano gli animali, saranno invitati ad andare a spasso con i nostri istruttori di feetwalking, a fare le camminate, tra virgolette, sportive, quindi non occuparsi dei bambini, ognuno per la sua parte. Sarà un progetto in cui vedremo coinvolte diverse decine di animali e almeno una decina di conduttori, educatori cinofili, psicologi, cioè l'Equip, che sono considerate importanti per le attività di interventi assistiti con gli animali, ovvero di pet therapy. Grazie, quindi il prossimo appuntamento sarà quello del 3 dicembre. Alla prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie.